È stata prorogata il 20 settembre la data di scadenza per la presentazione dell'iscrizione al Verona Talent Show. Lo ha annunciato l'assessore ai quartieri Antonio Lella, presentando oggi la terza edizione della manifestazione aperta a tutti gli artisti residenti a Verona che abbiano compiuto 12 anni. Il Verona Talent Show si rivolge a cantanti, musicisti, ballerini e attori. La serata finale si terrà il 27 ottobre in Gran Guardia.